Morto David Saul, protagonista della serie tv Starsky e Hatch e scomparso all'età di 80 anni L'attore David Saul, uno dei due protagonisti della serie televisiva anni 70, Starsky e Hatch A dare notizia della morte la moglie Ellen Snell Saul, alias il detective Kenneth Hatch Hutchinson Ha fatto coppia dal 1975 al 1979 con Paul Michael Glaser David Michael Starsky